Isabel Upeo, c'è un nome clintiniano, miti per un'appenanza, quello del film del regista austriaco Michele Anette, che aprirà stasera la sesta edizione della rassegna sotto le stelle dell'Austria, in una splendida location. Siamo nell'arena, all'estita nei giardini del forum austriaco di cultura e parioli, via Bruno Pozzi. Sei film l'ultimo, 28 giugno, tutti è ingresso da lui, giorni in lingua originale, con i sottotitoli in italiano, per conoscere l'ultima stagione del cinema austriaco contemporaneo e apprezzarne la boccia. Happy End, già vista al Festival di Cannes, raccolta in modo lucido un interno familiare, domani sera lui di una ossa che vorrà la rinascita di un uomo di mezza età, alle prese con il licenziamento. E poi ancora giovedì, il migliore dei mondi, storia di un bambino di soli 7 anni, con una mamma tossicodipendente, storia vera, agli etofine, incapace di emozionare, e già vista la festa dal cinema di Roma per finire, l'anteprima italiana dell'animale presente sotto le stelle anche la regista, per i settori accesi sulla lotta tra bene e male.